Ma tutti sti strangozzi ristrangozzati con doppio strangozzo pancetta ripancettata con triplo carciofo ricarciofato che dieta è o no? Quella di coglioni Ah è nuova l'weekend eh E come consiste? Oh, in che sconsiste? Ehi, spiegalo tu Scusa, tu sei testimone, ok? Che aveva detto? Che lui? Mangiava poco E non finiva? Nemmeno il piatto Perché erano troppi? Ale, magna anche il piatto, è incredibile Erano troppi, guarda, lecca dito, vai giù, scarpetta collito Ale, carciofo ricarciofato, tutto il sugo, via E vai Allora, viene sempre a mangiare qua e dici che è vegetariano No, sono vegetariano Sei vegetariano? Sì E come aveva mangiato il prosciutto e la barbozza? Ovunque nel mondo, a parte qua Qua non è vegetariano? Che mangi, che hai mangiato oggi? Ah, non posso dire La barbozza e il prosciutto, sì Devono sapere perché sei un'ipocrita Quando arriva a ordinare le verdure, no Non gliele date, dategli la carne Che t'ho preso? Il caricabatterie To Sì, a me il magno To, può essere che te il magni perché ne è saltato una portata E ne va fame E ne va fame Pensate Guarda, da 6 volt 12 volt 13, 14, 15 volt Lo puoi caricare anche sotto sforzo astemico Guarda, c'è scritto Guarda, c'è scritto Puoi mettere anche il cavetto sopra Sopra la fragola Rosso va con le fragole Metteci Non so se vi è mai capitato Sicuramente sì Perché a me è spessissimo Che entri dentro casa di una persona O di qualcuno E ti fa Scusa il disordine È casa ordinata C'è profumo Vaniglia Cocco Mirtilli Tutto lucidato Tavolini lucidati Tutto preciso Perfetto Non fa niente Una piega E però Scusa il disordine Ma de che Ma de che Eh